Momento molto negativo per Tentation Island, un lutto ha colpito gli autori e tutti coloro che ruotano attorno al programma condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale 5. La comunicazione di questo decesso inaspettato ha rattristato davvero tutti, infatti diverse persone hanno scelto il social network Instagram per l'estremo saluto ad una persona considerata molto buona e gentile. A perdere la vita è stato dunque Massimo un componente dello staff di Tentation Island, in più ad accordarsi a pensieri di affetto e riconoscenza c'è stata anche l'autrice Chiara Brei. Il ricordo di una persona molto gentile, ciao Massi, una perdita straziante per tutti, ricordata anche da coloro che non lavorano più nella trasmissione ma che hanno incontrato Massimo negli anni precedenti.